ciao amici benvenuti all'appuntamento wedding consigli fotografici e non solo oggi di che cosa vi parlerò vi parlerò dell'organizzazione del matrimonio di quanto tempo prima organizzare la vostra cerimonia come muoversi quanto tempo prima poter scegliere il professionista il proprio professionista passato l'entusiasmo della proposta di matrimonio si passa alla seconda fase l'organizzazione della data ma organizzato chiaramente un matrimonio non è una cosa semplice quindi vanno visto tutti i piccoli dettagli ora si passa alla fase che non è poi così semplice da organizzare come sembra sono tantissime le cose da fare da mettere insieme per organizzare una festa meravigliosa soprattutto trovare i veri professionisti che seguiranno il vostro matrimonio quelli capace di seguire di seguire in toto le vostre esigenze quindi ecco la cosa più difficile quindi sono tantissime le cose da vedere tantissime le location da verificare fioristi fotografi ma quanti sono effettivamente quelli che fanno per voi stando alle loro parole tutti ognuno di loro proverà a convincerti di essere la persona giusta per il vostro matrimonio però naturalmente non è proprio così la realtà è che tutti i professionisti hanno un loro modo di essere quindi dovete scoprire voi quello che si avvicina maggiormente alle vostre esigenze per questo il mio consiglio alle future coppie e di muoversi con largo anticipo per non rischiare di ritrovarsi con delle seconde scelte incapaci di farvi vivere il matrimonio come lo voi lo vorreste provate semplicemente a pensare come vi sentireste se il fotografo che avete scelto non era non era libero e quindi siete andati in una seconda scelta e quella seconda scelta non è stata capace di essere discreta nella vostra cerimonia non potresti far altro che pensare che se ti fossi mosso in anticipo potresti aver avuto potresti aver trovato la persona giusta per voi chi ti avrebbe accompagnato il giorno delle nozze quasi come un amico quindi una persona quanto più vicina è possibile a voi ma sono così tanti le motivazioni che possono spingere chiaramente la scelta di una persona che va vista ogni cosa nella giusta prospettiva quindi la domanda che sovviene ma da quanto cioè quanto tempo prima dovresti incominciare dovresti incominciare a muovervi per organizzare il vostro matrimonio l'idea di fondo è quella di prendere in considerazione l'esclusività della data prova a spiegarmi meglio la data in cui ci si sposa sono solitamente limitate tendenzialmente perlomeno nelle mie zone si tratta sempre di fine settimana di weekend dietro a primavera e l'estate quindi fine settimana a maggior regione che quest'anno purtroppo con questo brutto coronavirus che abbiamo avuto c'è stato un un accavallamento di date quindi muoversi nel modo giusto muoversi quanto tempo prima possibile vi porta a prenotare il fotografo o la location a voi più congeniale così se non la coppia quindi che si metteranno in cerca di professionisti proprio come come stai facendo tu come dovresti fare tu possono cogliere il rischio di non trovare i professionisti che loro vogliono quindi questi vengono ingaggiati prima ad altre coppie quindi inteso da ritrovarsi a dover con visto che non certamente non vorreste ritrovarvi a condividere la vostra villa il vostro gelidino con con altri sposi ci sono fornitori di servizi che possono accogliere solo poche cerimonie in una giornata il caso è diverso per quando si tratta di fioristi di abito l'abito è un aspetto fondamentale per carità lo capisco tuttavia i sarti l'atelier possono servirne più di una sposa per la stessa giornata naturalmente mi ho lasciato loro il tempo ma lasciato loro ovviamente il tempo di preparare l'abito su misura ma l'urgenza con cui devi ingaggiarli non è così stringente come può essere quella di un fotografo se ti trovi nella situazione di dover cominciare a organizzare un matrimonio dai la priorità a coloro che puoi ingaggiare solo se arriva prima di tutti gli altri quindi nel caso specifico quindi della cerimonia bisogna considerare il ricevimento quindi la location i musicisti la wedding planner e il fotografo sono tutte figure che vanno prenotate quanto prima possibile perché ovviamente la loro esclusività è limitata per quel giorno ma quando effettivamente tempo prima dovresti ingaggiarli beh prima lo fai ovviamente meglio è se pensi che in ogni caso dovrai prenotare i loro servizi perché attendere quindi meglio farlo quanto prima possibile io per esempio ho già più della media dei matrimoni a disposizione per il 2021 quindi ho parecchie date prenotate sono pochissime quelle libere e questo già a distanza di pochi giorni al finire del 2020 voglio poter dedicare tutto il mio tempo e tutta la mia attenzione i miei clienti quindi vi aspetto al mio studio vi aspetto al mio studio per poterne parlare insieme per poter decidere in un clima molto rilassato quale può essere l'alternativa e che fa al vostro caso qual è l'alternativa che può servire per il vostro matrimonio quindi e vi aspetto al mio studio e tanti auguri per il vostro futuro matrimonio grazie grazie grazie